Il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli si rifà al discorso sulla solidarietà di Papa Francesco per condividerlo insieme ai suoi concittadini in questo periodo di festività e di riflessione, invitando a prendere parte ai diversi eventi natalizi che stanno avendo luogo nel borgo cilentano. Il periodo natalizio è quello dove si lascia spazio anche alle riflessioni e io vorrei fare una riflessione, vorrei condividere con i miei concittadini ma con tutti coloro che ci ascoltano quello che è stato il discorso di Papa Francesco fatto proprio in questi giorni, che è una cosa molto molto bella, molto toccante, che riguarda la solidarietà, riguarda l'individuo, riguarda la nostra società. Credo che in questo discorso ci sia lo spunto, ci sia la riflessione e ci sia anche l'analisi dei nostri giorni, dei nostri tempi e quindi l'augurio è di poter condividere questo scritto, queste parole, farle proprie perché credo che intorno a questo si possa veramente generare, creare un momento di riflessione autentica che serve e che fa bene alla nostra società. Insomma venire a Castellabate, oltretutto in questo periodo dell'anno dove insieme alle associazioni ma anche l'amministrazione ha messo in piedi un cartellone importantissimo di eventi, eventi di musica sacra nelle nostre basiliche, nelle nostre chiese, di eventi con le associazioni a partire dai mercatini che stanno avendo un grande successo, le attività che stanno facendo tutte le associazioni nel nostro territorio. Quindi una serie di eventi importantissimi che coniugati alle attività che messi insieme alle attività che sta portando avanti l'amministrazione fanno sì che il Natale a Castellabate diventi veramente qualcosa di eccezionale. Quindi il luogo dell'incanto non è solo un qualcosa che è legato a un periodo dell'anno ma veramente possiamo dire che il luogo dell'incanto 365 giorni all'anno.